Ristretto Italiano. I media internazionali scrivono di noi. Buongiorno. Dello scherzo telefonico a Giorgia Beloni continuano a parlare e a scrivere tutti, compresi i maggiori network internazionali. Noi, qui a Ristretto, ne abbiamo già parlato ieri, riprendendo alcune tra le testate che per prime avevano dato la telefonata, dopo che i due autori russi avevano diffuso il video. Ieri mi sono soffermato soprattutto sulla sorpresa, sull'incredulità che uno staff di una presidenza del Consiglio non sia capace di tutelare il suo premier da uno scherzo. Oggi invece ciò che più salta all'occhio, anche dalla lettura di molti altri commenti e soprattutto dall'ascolto della registrazione, ieri per esempio io non l'avevo ancora sentita quando ve ne ho parlato, è quanto fosse improbabile che quella voce che parlava con la Meloni potesse essere di un capo di Stato africano, visto la forte cadenza russa in quell'inglese che l'interlocutore parlava. E anche, come la nostra Presidente del Consiglio abbia detto, pensando di parlare a un collega capo di Stato, le cose che qui da noi pubblicamente non dice, tanto meno di fronte al Parlamento, a cominciare dalla sua stanchezza per i protrarsi del conflitto in Ucraina. Ad ogni modo, due titoli e poi cambiamo argomento. CNN, la leader italiana Meloni, parla della sua stanchezza sull'Ucraina nella telefonata con i burloni russi. CNN che ha sottolineato come, a differenza di tanti altri suoi colleghi europei che sembrano tutti dei robottini, la Meloni sia stata umana, si sia lasciata andare. E poi c'è Forbes che titola il primo ministro italiano ingannato da burloni russi. Il loro vero obiettivo era parlare della guerra in Ucraina. Parlando d'altro, a caso lì in Abruzzo si apre, e molto probabilmente si è già chiuso un nuovo giallo con implicazioni internazionali. Dopo che una donna di 66 anni, cittadina inglese, è stata trovata morta coltellata nella casa italiana che da tre anni condivideva con il marito. È proprio il marito, 74enne, che è stato trovato all'estero in Gran Bretagna. Dopo lunghe ore di caccia all'uomo, il principale è sospettato, come scrivono oggi la maggior parte delle testate inglesi, molto più dei giornali di casa nostra. Il Guardian, per esempio, titola «la polizia italiana cerca un cittadino britannico dopo che la sua partner è stata trovata pugnalata a morte». La copia, racconta il servizio, si era trasferita in questa campagna dell'Italia centrale, a poca distanza da Lanciano, in una zona molto abitata da expat inglesi. Meno cool della Toscana, tuttavia molto amata. Una copia molto affiatata, dicono gli amici, questo si dice sempre nei casi di femminicidio. Una copia molto affiatata che si vedeva spesso passeggiare con i cani. Lei, Michelle, la vittima, amava inoltre postare foto di loro due su Instagram. Il ritrovamento è stato fatto da un'amica che, non avendo avuto risposta al telefono, si è recata a casa della vittima. Lui, il marito, era già sparito con la sua Jeep Compass bianca. Entrambi, marito e automobile, sono stati ritrovati, come dicevo, ieri a Leicester. Altri scenari comunque non sono esclusi. Non è sempre detto che il principale sospettato sia anche l'assassino. Insomma, roba da chi l'ha visto. E c'è un'altra notizia, quella che oggi è la nostra storia di copertina. Una notizia riguardante il nostro paese, della quale si parla e si scrive sempre più frequentemente all'estero e sulla quale, sembra quasi per una sorta di scaramanzia, i media nazionali parlano e scrivono pochissimo. Sto parlando dei campi flegrei. Solo oggi trovo due approfonditi servizi americani. Uno su NBC News che titola Due Supervulcani, sebbene i mondi a parte attirano l'attenzione degli scienziati. Un servizio che fa un raffronto tra i nostri campi flegrei e la caldera di Long Valley nell'entroterra della California. Due Supervulcani da tempo dormienti su due continenti molto lontani ma che stanno risvegliandosi insieme. E già il nome che viene loro dato di Supervulcano con quel super davanti riservato solo a 20 di loro nel mondo non fa dormire sonni tranquilli. Anche se poi l'articolo spiega che il super è riferito all'estensione e non al potenziale distruttivo. E poi c'è l'articolo del Wall Street Journal che, lasciando perdere la California, si concentra solo su di noi e che titola Il Supervulcano rimbombante italiano a mezzo milione di residenti ai margini. Capito? Sì. Se quello californiano lo puoi anche chiudere alle visite al transito che tanto si trova in un parco nazionale, a Pozzuoli e a Napoli ci sono mezzo milione di persone da fare sparire. Ed è proprio qui che, tra i primi, il Washington Post comincia a scrivere dei dettagli del piano di protezione civile che è stato messo a punto in questo periodo di interminabile sciame sismico. 2.500 scosse. 2.500 scosse in tre mesi. Domenica a Pozzuoli, leggo, sono stati distribuiti degli opuscoli informativi con le informazioni su come comportarsi in caso di allarme. Dai consigli su come lavare gli ortaggi se contaminati dalla cenere a come guidare che poi scrive è meglio non guidare se la strada è cosparsa di cenere. E poi le strade da imboccare per allontanarsi in caso di eruzione, anche se lo stesso inviato del Wall Street Journal nota che si tratta di strade strettissime, a loro poi appaiono dei viottoli, e che sono sempre intasate. Riferisce inoltre l'inviato americano che le persone sono sempre più nervose, che di notte ad ogni piccola scossa si svegliano, non riprendono più sonno e che il mercato immobiliare è ormai totalmente paralizzato con nessuno che rischia più di comprare casa in una zona del genere. Notizie e servizi che sulla stampa nazionale, ripeto, trovi fatica a reperire. Cinema, per chiudere, l'Italia torna alla Hollywood sul Tevere, titola Hollywood Reporter. E sai che novità verrebbe da dire, visto che la rinascita di Cinecittà è cosa ormai di un paio di anni o più, ma questo è uno di quegli articoli che fanno sempre piacere, soprattutto a noi che viviamo a Roma, in quanto la sola suggestione di tornare agli anni della dolce vita ci fa sognare. Tornando all'articolo, leggiamo che le agenzie italiane stanno facendo gli straordinari per rafforzare i legami e per promuovere i nostri attori presso i produttori americani. Cinecittà, scrive ancora Hollywood Reporter, resta lo studio cinematografico più grande di Europa che in oltre 80 anni di attività ha prodotto oltre 3.000 film in almeno 51 dei quali hanno vinto almeno un Oscar. E il ritrovato splendore, spiega ancora l'articolo, va riconosciuto anche agli straordinari incentivi fiscali per i legisti americani con uno dei crediti di imposta più competitivi di Europa. Un credito del 40% per un massimo di 20 milioni di euro se assegnato tramite un produttore esecutivo italiano. E poi, di non secondaria importanza, tutti i set extra studios, cioè fuori da Cinecittà, che l'Italia può offrire, sono incantevoli, con una serie di paesaggi diversi, dai monumenti alle chiese, alle architetture storiche e culturali, alla luce naturale, che dicono è quasi antica. E l'articolo cita come regioni più interessanti per i cineasti per ambientare le loro scene, l'Appennino Calabro, le Marche con le sue colline e i suoi vigneti e la città di Torino con il suo eccezionale patrimonio di palazzi. Io Ristretto Italiano di Ruggia Aeropo